e greggio signore la sua lettera mi è giunta solo alcuni giorni fa voglio ringraziarla per la sua grande e cara fiducia poco altro posso non posso addentrarmi nella natura dei suoi versi poiché ogni intenzione critica è troppo lungi da me nulla può toccare tanto poco un'opera d'arte quanto un commento critico se non tengono sempre più o meno felici malintesi le cose non si possono tutte afferrare e dire come d'abitudine ci vorrebbero far credere la maggior parte degli eventi sono indicibili si compiono in uno spazio in accesso alla parola e più indicibili di tutto sono le opere d'arte esistenze piene di mistero da cui vita accanto all'effimera nostra perdura ciò premesso mi sia solo consentito dirle che i suoi versi pur non avendo una natura loro propria hanno però sommessi e velati germi di una personalità con più chiarezza lo avverto nell'ultima poesia la mia anima qui qualcosa di proprio vuole farsi metodo e parola e nella bella poesia a leopardi affiora forse una certa affinità con quel grande solitario eppure quei poemi sono ancora privi di una loro autonoma fisionomia anche l'ultimo e quello a leopardi la sua gentile lettera che li accompagnava non manca di spiegarmi varie pecche che ho percepito nel leggere i suoi versi senza però potervi dare un nome lei domanda se i suoi versi siano buoni lo domanda a me prima lo ha domandato ad altri l'invia alle riviste li confronta con altre poesie e si allarma se certe redazioni rifiutano le sue prove ora poiché mi ha autorizzato a consigliarla le chiedo di rinunciare a tutto questo lei guarda all'esterno ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare nessuno può darle consiglio o aiuto nessuno non ve che un mezzo guardi dentro di sé si interroghi sul motivo che le intima di scrivere verifichi se esso protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore confesse a se stesso morirebbe se le fosse negato di scrivere questo soprattutto si domandi nell'ora più quieta della sua notte devo scrivere frughi dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta e se sarà di assenso se lei potrà affrontare con un forte e semplice io devo questa grave domanda allora costruisca la sua vita secondo questa necessità la sua vita fin dentro la sua ora più indifferente e misera deve farsi insegno ai testimoni di questa urgenza allora si avvicini alla natura allora cerchi come un primo uomo di dire ciò che vede e vive e ama e perde non scriva poesie d'amore eviti dapprima quelle forme che sono troppo correnti e comuni sono le più difficili perché serve una forza grande e già matura per dare un proprio contributo dove sono in abbondanza tradizioni buone e in parte ottime perciò rifugga dai motivi più diffusi verso quelli che le offre il suo stesso quotidiano descriva le sue tristezze e aspirazioni i pensieri effimeri e la fede in una bellezza qualunque descriva tutto questo con intima sommessa umile sincerità e usi per esprimersi le cose che le stanno intorno le immagini dei suoi sogni e degli oggetti del suo ricordo se la sua giornata le sembra povera non l'accusi accusi se stesso si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le ricchezze poiché per chi crea non esiste povertà né vi sono luoghi indifferenti o miseri e se anche si trovasse in una prigione le cui pareti non lasciassero trapelare ai suoi sensi i rumori del mondo non le rimarrebbe forse la sua infanzia quella ricchezza squisita regale quello scrigno di ricordi rivolga lì la sua attenzione cerchi di far emergere le sensazioni sommerse di quell'ampio passato la sua personalità si rinsalderà la sua solitudine si farà più ampia e diverrà una casa al crepuscolo chiusa al lontano rumore degli altri e se da questa introversione da questo immergersi nel proprio mondo sorgono versi allora non le verrà in mente di chiedere a qualcuno se siano buoni versi né tenterà di interessare le riviste a quei lavori poiché in essi lei vedrà il suo caro e naturale possesso una scheggia e un suono della sua vita un'opera d'arte è buona se nasce da necessità è questa natura della sua origine a giudicarla altro non v'è e dunque grezzo signore non avevo da darle altro consiglio che questo guardi dentro di sé esplori le profondità da cui scaturisce la sua vita a quella fonte troverà risposta alla domanda se lei debba creare la accetti come suona senza stare a interpretarla si vedrà forse che è chiamato ad essere artista allora prenda su di sé la sorte e la sopporti ne porti il peso e la grandezza senza mai ambire al premio che può venire dall'esterno poiché chi crea deve essere un mondo per sé e in sé trovare tutto e nella natura sua compagna forse però anche dopo questa discesa nel suo intimo e nella sua solitudine dovrà rinunciare a diventare un poeta basta come dicevo sentire che senza scrivere si potrebbe vivere perché non sia concesso ma anche allora l'introversione che le chiedo non sarà stata vana la sua vita in ogni caso troverà da quel momento proprie vie e che possano essere buone ricche e ampie questo io le auguro più di quanto sappia dire cos'altro dirle mi pare tutto equamente rilevato e poi in fondo volevo solo consigliarla di seguire silenzioso e serio il suo sviluppo non lo può turbare più violentemente che guardando all'esterno e dall'esterno aspettando risposte a domande cui solo il sentimento suo più intimo nella sua ora più quieta può forse rispondere mi ha rallegrato trovare nel suo scritto il nome del professor oracec serbo per quell'amabile studioso grande stima e una gratitudine che non teme gli anni voglia la prego dirgli di questo mio sentimento è molto buono a ricordarsi ancora di me e lo so apprezzare le restituisco inoltre i versi che gentilmente mi ha voluto confidare e la ringrazio ancora per la grandezza e la cordialità della sua fiducia di cui con questa risposta sincera e data in buona fede ho cercato di rendermi un po più degno di quanto io un estraneo non sia suo devotissimo mio caro signor cappus è trascorso molto tempo da quando ho ricevuto la sua ultima lettera non mi servirà ancora per questo prima il lavoro poi fastidi e infine la salute cagionevole mi hanno impedito di continuo la risposta che era mio intento farle pervenire da giorni buoni e sereni ora mi sento di nuovo un po meglio l'inizio della primavera con i suoi passaggi bruschi capricciosi ti ha fatto molto sentire anche qui e mi accingo caro signor cappus a salutarla e a dirle e lo faccio di tutto cuore questo è quello della sua lettera come meglio so lo vede ho trascritto il suo sonetto perché mi sembrava fosse bello e semplice è nato nella forma in cui procede con così sommesso decoro sono i versi migliori tra quelli che di lei ho potuto leggere e ora le offro quella trascrizione poiché so che è importante e ricco di nuova esperienza ritrovare un proprio lavoro nell'altrui scrittura legga i versi come se fossero di un altro e nell'intimo li sentirà profondamente suoi è stato per me un piacere leggere più volte quel sonetto e la sua lettera di entrambi la ringrazio e non deve lasciarsi forviare nella sua solitudine perché c'è in lei qualcosa che vorrebbe uscirne proprio questo desiderio se lei lo usa con calma e superiorità e come uno strumento le aiuterà a dispiegare la sua solitudine su ampie distese la gente con l'ausilio delle convenzioni ha risolto tutto secondo la facilità e la più facile delle facilità ma è chiaro che noi dobbiamo attenerci al difficile tutto ciò che vive vi si attiene tutto in natura cresce e si batte a modo suo ed è per sua costituzione cosa a sé e cerca di esserlo a qualunque prezzo e contro ogni resistenza sappiamo poco ma che dobbiamo attenerci al difficile è una certezza che non ci deve abbandonare è bene essere soli poiché la solitudine è difficile che una cosa sia difficile deve essere per noi un motivo in più per farla anche amare è bene poiché l'amore è difficile volersi bene da uomo a uomo è forse questo il nostro compito più arduo l'estremo l'ultima prova è verifica il lavoro che ogni altro lavoro non fa che preparare per questo i giovani che sono principianti in tutto ancora non sanno l'amore lo devono imparare con tutto l'essere con tutte le energie raccolte intorno al loro cuore solitario ansioso dal battito anelante devono imparare ad amare ma il tempo dell'apprendistato è sempre un tempo lungo chiuso al mondo e così amare è a lungo e fin nel pieno della vita solitudine intenso e approfondito isolamento per colui che ama amare non significa fin dall'inizio essere tutt'uno donarsi e unirsi a un altro poiché cosa sarebbe mai unire l'indistinto il non finito ancora senza ordine è una sublime occasione per il singolo di maturare di diventare in sé qualcosa di diventare mondo per sé per amore di un altro è una grande e modesta pretesa a lui rivolta qualcosa che lo presceglie lo chiama a vasti uffici solo in questo senso come compito di lavorare a sé di stare allerta e martellare notte e di i giovani potrebbero usare l'amore che viene loro dato essere tutt'uno e donarsi e a ogni sorta di comunione non è per loro che ancora a lungo a lungo devono risparmiare e radunare è il compito e forse quello per cui oggi intere vite umane ancora non sono sufficienti in questo però i giovani sbagliano così spesso e gravemente che essi nella cui natura è non aver pazienza si gettano l'uno all'altro quando l'amore li assale si spandono così come sono in tutto il loro disordine scompiglio e turbamento ma come fare allora che deve fare la vita di quel mucchio di cocci che essi chiamano la loro comunione e che volentieri chiamerebbero la loro felicità fosse plausibile e il loro futuro così ognuno si perde per l'altro e perde l'altro e molti altri che ancora volevano venire e perde ampiezza e possibilità scambia l'approssimarsi e lo sfuggire di sommesse presaghe cose con una infeconda titubanza da cui più nulla può venire nulla se non un poco di disgusto dilusione e povertà e il rifugiarsi in una delle tante convenzioni che come ricoveri comuni sorgono in gran numero lungo questo rischiosissimo cammino nessun ambito dell'umana esperienza è tanto fornito di convenzioni come questo vi si trovano salvagenti delle più diverse fogge scialuppe e tavolette galleggianti rifugi di ogni tipo ha saputo creare l'ingegno sociale poiché essendo incline a prendere la vita amorosa come uno svago doveva anche renderla facile a buon mercato senza rischi e sicura come sono i pubblici svaghi molti giovani però chiamano in maniera errata cioè semplicemente abbandonandosi e non essere in solitudine la media ridurrà sempre questo sentono l'oppressione di uno sbaglio e a modo loro vogliono rendere anche lo stato in cui si trovano coinvolti vitale e fecondo poiché la loro natura dice loro che le questioni dell'amore meno ancora di tutte le altre così importanti possono essere risolte in pubblico e secondo questa o quella intesa che sono questioni questioni pressanti da uomo a uomo che necessitano in ogni caso di una risposta nuova peculiare solo personale ma come potrebbero essi che già si sono gettati l'uno nell'altro e non si limitano ne distinguono più che dunque più nulla possiedono di proprio trovare in sé una nuova via di uscita nel profondo della solitudine che è già sepolta essi agiscono per comune sconcerto e quando con i migliori intenti cercano di evitare la convenzione che balza loro agli occhi il matrimonio per esempio finiscono irrititi da una soluzione convenzionale meno vistosa ma altrettanto mortale poiché ormai all'intorno tutto è convenzione quando si agisce per una comunione stretta troppo presto e turbida ogni azione convenzionale ogni relazione a cui porti tale disorientamento alla sua convenzione per quanto fuori del comune e dunque in senso corrente immorale sia persino la separazione sarebbe allora un passo convenzionale un impersonale decisione accidentale senza forza e senza frutto osservare seriamente ti si rende conto che come per la morte che è difficile anche per il difficile amore non è stato ancora individuato alcun chiarimento alcuna soluzione né traccia né via e per questi due compiti che noi portiamo nascosti e passiamo ad altri senza aprirli non si potrà studiare alcuna regola comune fondata sull'intesa se però cominciamo a tentare da singoli la vita queste grandi cose si presenteranno a noi i singoli molto più vicine le istanze che il difficile lavoro dell'amore pone al nostro sviluppo sono smisuratamente grandi e noi da principianti non siamo all'altezza ma se resistiamo e prendiamo su di noi questo amore come fardello e tirocinio invece di perderci in tutto quel gioco frivolo e lieve dietro cui gli uomini hanno eluso la più seria serietà della loro esistenza allora forse un piccolo progresso e un certo sollievo saranno percettibili a coloro che verranno molto dopo di noi sarebbe molto infatti stiamo appena cominciando a considerare la relazione di ogni singolo individuo con un altro singolo con obiettività e senza pregiudizi e i nostri tentativi di vivere tale rapporto non hanno alcun modello da rifarsi eppure nel mutare del tempo già vi sono varie cose che vogliono aiutare i nostri titubanti esordi la fanciulla e la donna nella loro nuova personale evoluzione saranno solo temporaneamente imitatrici di modi e smodatezze maschili e replicanti di maschili mestieri dopo l'incertezza di si fatte transizioni si vedrà che le donne sono passate attraverso la profusione e varietà di quei travestimenti spesso ridicoli solo per purificare la più intima natura degli influssi deturpanti dell'altro sesso le donne nelle quali più immediata feconda e fiduciosa sta e dimora la vita devono in fondo essersi fatte creature umane più mature più umane del leggero maschio che nessun frutto del corpo trascina col suo peso sotto la superficie della vita e che frettoloso e altero sottovaluta quello che crede di amare questa umanità della donna portata con dolori e umiliazioni verrà alla luce quando ella si sarà spogliata delle convenzioni della mera femminilità nelle metamorfosi della sua condizione esteriore e i maschi che oggi ancora non la sentono venire ne saranno sorpresi e battuti un giorno a favore del quale già ora soprattutto nei paesi nordici parlano e brillano segni sicuri un giorno vi sarà la fanciulla e la donna il cui nome non significherà più solo un opposto al maschile ma qualcosa di proprio qualcosa che non induca a pensare a complementi e confini ma soltanto a esistenza e vita la creatura femminile questo progresso trasformerà da prima assai contro la volontà dei maschi superati l'esperienza dell'amore che adesso è piena di errore la cambierà dalla radice la muterà in una relazione che è intesa da uomo a uomo non più da maschio e femmina e questo amore più umano che si compirà infinitamente attento e lieve e buono e chiaro nel legare e sciogliere somiglierà a quello che noi lottando e con fatica andiamo preparando l'amore che consiste in questo che due solitudini si proteggano si limitino e si inchinino l'una innanzi all'altra una cosa ancora non creda che quel grande amore che a lei fanciullo un tempo fu assegnato fosse perduto può dire se allora non siano maturati in lei grandi e buoni desideri e propositi di cui ancora oggi vive io credo che quell'amore si conservi così forte e potente nel suo ricordo perché fu la sua prima profonda solitudine è il primo intimo lavoro con cui ha atteso alla sua vita tutti i migliori auguri a lei caro signor cappus voglio parlarvi ancora caro signor cappus voi avete avuto molte grandi tristezze che poi se ne sono andate ma vi prego riflettete se quelle grandi tristezze non siano piuttosto passate attraverso di voi se molto in voi non si sia trasformato se in qualche parte del vostro essere non siate cambiato proprio mentre eravate tristi pericolose e maligne sono quelle tristezze soltanto che si portano tra la gente per soverchiarle col rumore come malattie che vengono trattate in maniera sconsiderata e superficiale queste tristezze fanno solo un passo indietro e dopo una breve pausa erompono tanto più paurosamente e si raccolgono nell'intimo e sono vita sono vita non vissuta avvilita perduta di cui si può morire se ci fosse dato di vedere più oltre di quel che non giunga il nostro sapere è un po' più in là dei bastioni del nostro presentimento forse allora sopporteremmo i nostri dolori con maggiore fiducia che non le nostre gioie perché sono essi i momenti in cui qualcosa di nuovo entra in noi qualcosa di sconosciuto i nostri sentimenti ammutoliscono in semplice timidezza tutto in noi indietreggia sorge una calma e il nuovo che nessuno conosce vi sta nel mezzo e tace io credo che quasi tutte le nostre tristezze siano momenti di tensione che noi sentiamo come paralisi perché noi siamo soli con la cosa straniera che è entrata in noi perché quanto c'era familiare e abituale per un momento ci è tolto e noi ci troviamo in un passaggio dove non possiamo fermarci perciò anche poi passa la tristezza il nuovo in noi è entrato nel nostro cuore è penetrato nella sua camera più interna ed anche là non è più è già nel sangue e noi non capiamo cosa sia stato ci si potrebbe facilmente persuadere che nulla è accaduto eppure noi ci siamo trasformati come si trasforma una casa in cui si è entrato un ospite noi non possiamo dire chi si è entrato forse non lo sapremo mai ma molti indizi suggeriscono che il futuro entra in noi in questa maniera per trasformarsi in noi molto prima che accada e perciò è tanto importante essere soli e attenti quando si è in un periodo di forte sofferenza perché il momento vuoto in apparenza e fisso in cui il futuro entra in noi è tanto più vicino alla vita di quell'altro istante sonoro e casuale in cui esso come dal di fuori accade quanto più calmi e pazienti e aperti noi siamo nella tristezza tanto più profondo e infallibile entra in noi nuovo tanto meglio noi ce lo conquistiamo tanto più sarà esso nostro destino e noi ci sentiremo se un giorno più tardi accadrà a fini e prossimi ad esso nel più intimo di noi stessi e questo è necessario è necessario che nulla ci accada di estraneo ma solo quanto ormai da lungo tempo ci appartiene si imparerà poco a poco a riconoscere che quello che noi chiamiamo destino esce dagli uomini non entra in essi dal di fuori solo perché tanti non assorbirono e trasformarono in se stessi i loro destini finché vivevano in loro non riuscirono a riconoscere che cosa usciva da loro era a loro così estraneo quel destino che essi credettero smarriti dal terrore che fosse entrato nella loro vita da un momento all'altro come a lungo ci si è ingannati sul movimento del sole così ci si inganna ancora sempre sul movimento dell'avvenire il futuro sta fermo caro signor Capus e noi ci muoviamo nello spazio infinito come dovremmo non sentire fatica e se torniamo a parlare della solitudine si chiarisce sempre più che non è cosa che sia dato di scegliere o lasciare noi siamo soli ci si può ingannare su questo e fare come se non fosse così ma quanto meglio invece sarebbe comprendere che noi lo siamo soli e anzi partire da lì e allora accadrà che saremo presi dalle vertigini perché tutti i punti su cui il nostro occhio usava a riposare ci vengono tolti non v'è più nulla di vicino e ogni cosa lontana è infinitamente lontana chi dalla sua stanza quasi senza preparazione venisse posto sulla cima di una grande montagna dovrebbe provare un senso simile una incertezza senza uguali e un abbandono all'ignoto quasi lo anienterebbe egli vaneggerebbe di cadere o si crederebbe scagliato nello spazio o schiantato in mille frantumi così si mutano per colui che diviene solitario tutte le distanze tutte le misure di queste mutazioni molte sorgono all'improvviso e come in quell'uomo sulla cima della montagna nascono allora straordinarie immaginazioni e strani sensi che sembrano crescere sopra ogni capacità di sopportazione ma è necessario che noi consumiamo anche questa esperienza noi dobbiamo accogliere la nostra esistenza quanto più ampiamente riusciamo tutto anche l'inaudito deve essere possibile per noi è questo in fondo il solo coraggio che a noi si richieda il coraggio di fronte all'esperienza più strana più prodigiosa e inesplicabile che si possa incontrare il fatto che gli uomini fossero vili o paurosi ha recato danno infinito alla loro vita le esperienze che vengono chiamate apparizioni tutto il cosiddetto mondo dello spirito la morte tutte queste realtà a noi così affini sono state tanto cacciate dalla vita per difesa quotidiana che i sensi spirituali con cui le potremmo afferrare si sono rattrappiti non parliamo poi di Dio grazie a tutti